musica 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 se l'ho minuto e venti ok grazie per mettermi ansia che cazzo è sure? minuto e 10 non c'è sure non lo trovo un minuto ma è scritto sure sei sicuro? sure 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 50 secondi sure you are done like you are you are done like you are you are you are è scritto come? abbreviato? no staccato eh no non c'è è sure allora penso no 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 done like ma c'è anche quello abbreviato troppo un po' era quello abbreviato ah e che cazzo dicemelo? eh ma è me sei partito a raffica e io invece sono due oddio allora lascia un quadrato dal pallino della seconda cosa verticale lascia un quadrato dal pallino della seconda cosa verticale allora rispetto al cerchietto il primo che mi hai detto dove sei? è rosso e c'è scritto hold è rosso c'è scritto hold non c'è scritto qua che è rosso sono i rossi ah ok sei il bottone rosso c'è scritto prem e rilascia immediatamente fatto le parole le parole le parole vai che cazzo vuol dire pronuncialo bene il nome di Dio air come? p h e i r ok si mi devi dire la colonna a destra e al centro what? eh u what? left? nothing? re? blank? no non c'era what 20 secondi aspetta perchè premi le cose a cazzo se non mi aspetti c'è scritto ur che vuol dire ur 24 anni c'è scritto ur 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 sei cazzo a sinistra eh abbiamo fatto boom i cerchi verdi sono sulla stessa riga a tre parlando dal basso conta uno due tre sono sul tre quale riga? dal basso cazzo vuol dire dal basso ah riga orizzontale quale? quella più in basso dal basso ciao idiot raccoon eh che grande stai ciao idiot raccoon allora aspetta eh sali di uno due alla terza ok no no poi vai a destra eh a destra e sono uno e poi dopo ne salti uno c'è quell'altro ah ci sono ci sono ci sono ok sei cavi eh ce n'è uno nero uno blu uno bianco uno rosso e due gialli sì ma tu con questa velocità come pensi che il mio cervello possa processare informazioni i simboli i simboli ok eh ah giusto te li devo dire io ma dai due premi il bottone nella prima posizione tre mancano 16 secondi premi il bottone quattro 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 premi il bottone con la stessa scritta di quello premuto nello step 3 eh che cazzo era che ne sono eh uno due tre o quattro direi uno minchia no sì sì a due secondi dalla fine oh Gesù attivo film è stato è stato bellissimo che bello avere memoria ogni tanto no ti giuro due secondi dalla fine mancavano due io non lo so come come ti sei ricordato dillo che hai sparato no l'hai detto no perché ce l'avevo segnavo quattro e uno col pollice e mi contavo ogni volta che premevo giù il pollice tutte le volte che me lo dicevi no beh io io c'ho il cuore che non esiste più c o u l d c o sì no se non c'è la o a cacchio allora non riesco a fartelo questo mi devi dire allora dimmi una parola che ti ispira tra quelle allora ripetimi allora l'ultima lettera dimmi l'ultima lettera t j b x g l t j b single riesce a scrivere sega quindi come Stranger Things sì t h i n g non la non la la t scusami e cazzo vabbè siamo in stuosi un minuto e 17 in fondo ci basta dai proviamo ancora ho capito è allora allora x il concentrato di un minuto e sete dai 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 e dai 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 continua a dirmi le prime lettere I, allora ti dico la città Imola Zurigo Aosta Washington Che cazzo vuol dire Zurigo Nella seconda c'hai una O Allora tu è tipo la quinta volta che mi chiedi se ho la O Non c'hai la O Hai capito sto domando solo parole con la seconda c'è una O Hai capito 38 secondi siamo esplosi Cacchio Devo capire come funziona questo Oggi spediamo 27 Non leggere il timer Mi devi ritare con le lettere 22 21 20 19 18 17 Devi ritare con le lettere e non leggere il timer Allora Z I P Tu dici P e B uguali Ho capito Padova Vabbè è 3 2 1 Esploso Bene Boom C'è una luce lampeggiante Sì c'è una luce lampeggiante Mi devi dire che parola Come fa Ehm Tac 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 Quindi sì Punto punto linea Addio che ne so Allora un lampeggio veloce è il punto Un lampeggio lungo è la linea Scout ti avrebbe sognato qualcosa Christian No ma ce ne sono un sacco Aspetta Eh lo so Tu mi devi dire la luce lampeggiante che cosa fa Lampeggio 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 Non calma La prima leggera Prima ti faccio una pausa Quindi fai tipo lampeggio 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 Pausa e ti fermi Ok No Allora, rampeggio, lampeggio, lampeggio Lampeggio, lampeggio Lampeggio Oddio Sempre autistico Lampeggio, lampeggio, lampeggio Lampeggio, lampeggio Ho detto di fare le pause Leggimi la prima lettera e basta Lampeggio, lampeggio, lampeggio Quindi tre lampeggi? Sì Non esiste Ma che cazzo vuol dire che non esiste? No, no, S, S, S Ok, S Ok Lampeggio, lampeggio Lungo Lampeggio Ma questa è velocissima Come te faccio a dirtelo, scusa Lampeggio C'è un lampeggio, lampeggio lungo Poi ci sono altri tre lampeggi consecutivi veloci Quindi è punto riga, punto, punto Punto riga, punto Allora Quanto esplodiamo Punto Sì, però ho capito Punto riga, punto, punto Quindi è S, L Eh io che cazzo ne so, scusa Sì, sì, te lo sto dicendo io Ma non esiste una parola No, è Sleek, ok Rispondi con la frequenza 3, punto, 5, 2, 2 Minchia, l'abbiamo fatto Ce l'abbiamo fatto E' il primo premiti X Ce l'abbiamo fatto, ce l'abbiamo fatto Ce l'abbiamo fatto Allora è grandissima Aspetta che attacco il joystick E in teoria dovrì essere C'è, attacca il joystick Attacca Un saluto a Oddio, come si chiama? Quella pellata con Che dice attacca Come si chiama? Come si chiama? Dai non ridere Sh Sh qualcosa Eh, oddio No, io devo cercare la pellata Che dice attacca Aspetta Sai che ci avevo pensato? Eh Di fare un video ASMR Poi a un certo punto Tirare un urlo nel microfono Allucinante Ma casissimo Però poi devi disattivare i commenti Sennò poi lo spoiler È una delle idee per il futuro Quindi Cioè, lo dico come facciamo Prima o poi lo faccio Prima o poi